E allora amici da oggi ci siamo e vedremo quello che sarà il volto che si merita l'Italia dal Quirinale e nel mondo. Che cosa dire? Il mio pensiero è che venga fuori dall'elezione del Presidente della Repubblica una persona la quale ci restituisca un po' di entusiasmo e ci restituisca un po' di fiducia nel nostro futuro e che non accada invece che ci ritroviamo in un'eterna battaglia per bande che durerà sette anni.